Una suora molto carina sta rientrando in convento a piedi quando inizia a piovere all'improvviso quindi si mette a fare l'autostop, allora si ferma una macchina super lussuosa e la fa salire e dentro questa macchina c'è una bellissima signora tutta imbellettata, elegantissima e sta suora nota che ha un anello bellissimo con un diamante enorme e allora gli fa, mamma mia che bell'anello che ha signora, chissà quanti sacrifici le sarà costato e lei, no sorella questo è il dono di un mio spasimante dopo una notte d'amore ah bene, senta ma vedo anche che ha una bellissima collana signora, gli sarà costato veramente molti sacrifici e la signora, no ma guardi questa collana è il regalo di un mio spasimante dopo una notte d'amore ah capisco, insomma arrivano a destinazione, la signora fa scendere la suora la suora rientra in convento, entra nella sua stanza, dopo un po' si sente bussare toc toc, chi è? Sono Don Alberto adonare beh, bacca gattie caramellina la menta va